Il campionato nazionale direttanti serie di Giron F si affrontano il Matelica padrone di casa in maglia bianca e l'Alma Juventus Fano. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Sergio Catalani. Ancora il Matelica con Esposito che viene chiuso in qualche modo, ma ancora Esposito che però ha la meglio. Esposito, vediamo prova la serpentina, Esposito fa tutto da solo, il pubblico, attenzione c'è il calcio di rigore per il Matelica. Due specialisti, Esposito nel calciare i rigori, di resta del Pararli, parte Vittorio, Esposito e il tiro è il gol. Matelica 1, Alma Juventus Fano 0. Verso Pesaresi, attenzione c'è il 2-0, il raddoppio. L'ispi allontana, mette giù Pesaresi per Esposito che cerca di portarsi a spasso, torta. Pagnarina alzata dell'assistente che va a richiamare l'attenzione della direttore di gara. Vediamo se prenderà provvedimenti. Vediamo se è il mister o è un dirigente. E' Dolce, il direttore sportivo Dolce che abbandona, Rex Camerino Dolce, abbandona anche Alessandrini, anche Alessandrini, anche il mister ganata Alessandrini. Che prova a innescare Esposito, attenzione punta, torta, fa quello che vuole, va via Esposito, Esposito, Esposito il tiro e la palla che sibila il palo. Accentra il tocco a Sassaroli che prova a penetrare centralmente Borrelli, vediamo c'è Sartori, esce il portiere Borrelli, attenzione. Lispi salva, Borgese intanto Moretti prova a innescare Esposito che era in svantaggio su Salvato e li lascia e se lo brucia la grande, Esposito, Esposito, Esposito e il tiro palo. La palla ancora per Ilari e si salva con Esposito. Salvato quindi a Favo Borrelli ma sono già in due su di lui, Esposito intanto prova, è prezioso anche in zona d'attacco Esposito che si brucia tutti, ancora Esposito, 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 Esposito Show, Esposito Show. Finisce qui, esulta il pubblico matericese.